Buongiorno, allora oggi devo rifare la manicure, quindi colgo l'occasione per testare insieme a voi le unghie della Glammer Made Le unghie della Glammer Made sono delle unghie già decorate, che possono appunto avere decorazioni fantasiose oppure decorazioni monocolore come ad esempio queste qui o queste qui e sono semplicemente delle unghie biadesive che vanno applicate appunto sulla tua unghia naturale e restano appunto lì con la manicure fatta praticamente e io le ho ricevute appunto dal sito, ho avuto l'opportunità di scegliere tra tutta la selezione presente 5 kit e intanto ve li faccio vedere, poi ne proviamo insieme uno Allora, ho scelto diverse tipologie in modo da poter testare differentemente quindi ho scelto queste nere, è un nero plain, quindi un nero semplice e hanno la punta leggermente arcuata, quindi leggermente a... come si chiama? a mandorla Poi, quest'altra viola, sono sempre a mandorla ma hanno la punta un pochino più squadrata Queste, sempre nere però sono opache e hanno la scent nail brillantinato e sono quadrate queste Poi ancora a mandorla queste qui, che hanno un colore più delicato, a parte la scent nail con questi quadretti e poi queste qui, natalizze, che sono quelle che poi andremo a provare Quindi, nella confezione troviamo l'headwood dietro, oltre alle unghie, che sono 24, quindi sono di diverse misure e sono adatte per appunto trovare la propria misura anche una mini, una mini lima dei pad che servono per preparare l'unghia, per... dell'applicazione dell'unghia, che semplicemente sgrassa bene l'unghia uno stick per mandare indietro tutte le cuticole e 48 tabs biadesivi, che appunto servono per ancorare l'unghia naturale all'unghia questa finita Iniziamo! Allora, ho tirato fuori le unghie dalla mia scatolina e abbiamo il kit con tutte le unghie, le varie misure un sfondo olografico le tabs adesive, quindi il biadesivo e il pad per sgrassare l'unghia la mini lima e il bastoncino di legno per mandare indietro le cuticole Io, prima di iniziare il video, ho già fatto una manicure base quindi ho tolto le cuticole, ho idratato le mie unghie con la crema idratante e con l'olio secco perché comunque ho delle cuticole molto molto secche e quindi ho comunque già preparato le mie mani non ho bisogno quindi di limare o di passare il bastoncino però se lo dovete fare ricordate comunque di spingere dietro le cuticole e di eventualmente rimuovere ogni non di scromia, ogni dislivello su unghie in modo da consentire alle unghie artificiali di aderire meglio quindi la prima cosa che faccio è di andare a identificare le varie unghie che poi andrò ad applicare sulle mie vediamo un pochino allora iniziamo da quella che dovrebbe essere per il pollice le unghie hanno una doppia, doppio spessore il lato più sottile è quello che va applicato poi verso il giro cuticole quello più spesso ovviamente è quello che andrà poi applicato all'esterno quindi per capirci, semplicemente così allora questa è quella che applicherò sul pollice credo che vada abbastanza bene vediamo se ce n'è però una un pochino più piccola con la stessa misura vediamo questa sì, forse questa è un pochino meglio quindi utilizzerò queste qui per applicarle sul mio pollice poi come detto avendo diverse misure fondamentalmente si può adattare i disegni alle proprie mani ad esempio per me queste sono un pochino troppo grandi quindi non le posso andare ad applicare della stessa misura di quelle grandi ci sono anche queste qui è ancora più grande tra l'altro rispetto a questa quindi se voi avete comunque delle unghie un pochino più grandi avete anche la misura per voi quindi fondamentalmente si è adattato a ogni tipo di mano ok quindi queste sono le unghie che ho scelto in base anche alle misure che le mie unghie possono reggere come vedete sono tutte piccolissime perché io ho degli unghie la prima cosa che faccio è andare a prendere la pad per sgrassare l'unghia io credo che questa possa essere sostituita anche poi eventualmente per una riapplicazione da una salviettina con l'acetone ok una volta fatto questo vado a prendere le mie tabs a prendere le mie a prendere le mie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.